Ciao a tutti, siamo con la squadra di Meteo Web, al pilota Fabio, poi abbiamo Peppe e il mitico Giacomo. Siamo in provincia di Vibo, qua c'è una bellissima strada innevata. Nel regno di Binus, sulle Serre. Siamo sulle Serre, non siamo né in Val d'Aosta né sull'Etna. Ma no, tutto qua si molla. Io sto so dentro di prima, mamma che fa, mi trova un panito.